Giovedì 9 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è andato in scena a Resital di e con Gianfranco Iannuzzo. Lo spettacolo ha evidentemente soddisfatto le aspettative positive del numeroso pubblico presente che con risate e applausi ha dimostrato ad aver gradito la performance e le scelte artistiche messe in scena da Iannuzzo. Divertenti aneddoti, ottime capacità artistiche, l'utilizzo di diversi dialetti e tra questi il nostro siciliano sono state le carte vincenti. Durante lo spettacolo anche momenti di riflessione sui diversi comportamenti e atteggiamenti degli italiani abitanti in diverse regioni. Emozionante la dichiarazione d'amore per la Sicilia e in particolare per Girgenti, agrigento, città nativa di Iannuzzo. Durante Resital Iannuzzo ha più volte raccontato anche aneddoti a lui accaduto a Caltanissetta che ha definito città molto ospitale. E ho l'esigenza di misurarmi ogni tanto da solo con il pubblico, perché così gli puoi raccontare dalla barzellettina, per cui non solo non ho nulla contro, ma faccio una specie di elogio dalla barzelletta, alle cose e i sentimenti veri che noi siciliani abbiamo nel cuore. Quindi accanto a questa sera si parlerà del mare, di che cos'è la donna, di che cos'è l'attraccamento che abbiamo per la nostra città. Caltanissetta perché siamo qua, o la mia agrigento, o la Milano di mia moglie. Si parla di argomenti molto diversi fra di loro, ma proprio perché sono così diversi finiscono proprio per interessare il pubblico. Lo dico senza nessuna presunzione, ma anche con un grande orgoglio da siciliano e da italiano. Io sono innamorato degli italiani, perché tutti volevano conquistare, è un po' come la metafora della Sicilia, tutti volevano conquistare questo giardino meraviglioso della Sicilia, nessuno ci è riuscito a conquistarla e noi siciliani siamo riusciti a prendere il meglio dai francesi, dai greci, dai romani, dai turchi, dagli arabi. E così è successo per l'Italia, quindi sono innamorato degli italiani.